good morning si qui sono praticamente diciamo è mezzogiorno quindi potremmo già pomeriggio mister master maestro oh semplicemente oh semplicemente david lynch it's may 28 2022 and it's saturday here in naples a clear clear morning this moment with also some clouds uh very still right now it in foreign for a finite round or eighty four and two i mean mi ricordo questo momento comunque only uh 29 celsius and this means that it's that day really 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 soft like in these days and this video and also over because it seems more a summer climate spring climate altra parte we are going to june and so this is normal as ricardo del video totsa donno if i do it forse ancora quello di ieri da caricare ma comunque in the case you are interested is open because it's always separate from this anyway i see and you all just see from the window intanto la apro la finestra che fa molto caldo i think you can't see anything because there is appunto a roller green roller shooter but uh essendo già pomeriggio we have i think i gradi si manterranno su questo livello cioè 29 celsius come detto prima it is foreign for a finite but the really important thing with this atmosphere is that today we have today we have those beautiful 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 blue skies and golden sunshine and i think all the long the way ovviamente ovviamente l'ho volto qui qui molto meno oggi perché già pomeriggio c'è un offratto sono ovviamente se si appunto già pomeriggio come ho detto prima e mezzogiorno quindi molte ore poi intendo soprattutto rispetto ai amici americani come sapete abbiamo un orario completamente diverso in quinter rispetto a voi si per cui bene comunque non ci possiamo proprio lamentare in questo mese perché abbiamo dovuto veramente quasi tutto il mese con beautiful blue sky and golden sunshine Per cui speriamo di continuare domani Anche così Per cui Say that is So from the mythical window With the orange red Bluey water curtain Un po' più indietro oggi Perché è averto la tenda ovviamente And it's Green Roller shooter Behind me Visible And finally Questo perché essendo estate Noi Apriamo la tenda E mettiamo la roller La green roller shooter In evidenza Per chi fa caldo Per far passareare And finally From the mythical keyboard Amadigix 640 IPG IPG 625 E poi Gratiti Moldo people Follow The channel The reports Un saluto A tutti And also I hope you Love a great breakfast Io la farò tra poco Il mio stomaco Brontola So se lo sentite Ma soprattutto Spero possiate consolarvi Se il tempo Nella vostra parte Veste essere brutto Rispetto a qui Non che Non vi consolate Non ci consoliamo sempre Con l'azione Ma personalmente Quando il tempo è più brutto Lo consola ancora di più D'altra parte Due parole In Italia Se dette in italiano Consolazione E colazione Fanno anche rima I'll see you Di Videototes Or tomorrow